Ciao, ciao! Oggi facciamo un piccolo esame. Io ti dico una frase in russo. Faccio una pausa, così hai un po' di tempo di tradurla in italiano. Dopo io dico il mio variante. Va bene. A io voglio mangiare. Io voglio mangiare. Mi piace. 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 Tutto tutto. Ciao, ciao! Пока, пока! Ciao! Ciao!